Musica Si rinnova l'appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. In apertura scopriamo insieme quali saranno gli argomenti che andremo ad affrontare all'interno di questa puntata. Circola oramai da settimane l'ipotesi di posizionare un rigassificatore nel porto di Piombino con i rumors che si rincorrono circa la nomina commissario per l'opera del Presidente della Regione Toscana da parte del Governo. Il tema è arrivato in Consiglio regionale con un'interrogazione presentata dal portavoce dell'opposizione Marco Landi e indirizzata all'assessore Monia Monni, non presente alla seduta. La risposta è arrivata dal Presidente Gianni. Effettivamente il Governo, più che un incarico ad hoc, in questo caso alla mia persona, sta pensando a un decreto legge che circola alle figure dei Presidenti delle Regioni, laddove viene scelto di posizionare le due navi rigassificatrici che sono state acquistate dallo Stato. Il Piombino è inutile negarlo, è uno delle più probabili. Naturalmente noi abbiamo fatto fare tutto il lavoro di verifica di quelle che erano le compatibilità con il porto, un porto realizzato dalla Regione Toscana doveva, vi ricordate, essere il porto dove si smontava la Costa Concordia, poi la Costa Concordia fu smontata altrove, però lì ci troviamo ora un porto molto importante, con 20 metri di pescaggio, con una possibilità di essere punto di riferimento logistico per tutto il centro d'Italia e la richiesta da parte di Snam è quella di utilizzarlo per un anno e mezzo, poi sarà pronta quella che è la piattaforma offshore per la rigassificazione che può consentire lo sviluppo di questa attività così importante. Però è evidente che non c'è solo da prevedere la rigassificazione. Se lì il Governo decide che deve andare la nave, bisogna che si faccia carico anche di tutta un'altra serie di operazioni, le bonifiche, la nuova strada, la 398, le stesse operazioni per installare quelle condizioni con un forno elettrico perché la siderurgia possa ripartire. L'assessore Moni non si è presentata in aula e non è purtroppo la prima volta a rispondere al question time del portavoce dell'opposizione. È un fatto assolutamente grave anche visto il tema di estrema attualità che è quello del rigassificatore della nave gasiera che si prevede di portare al porto di Piombino. È intervenuto il Presidente Gianni sulla stampa in virtù della possibilità di un decreto governativo che lo vedrebbe come commissario dell'opera. Noi nell'interrogazione abbiamo chiesto quale fosse lo stato dell'arte dell'opera e soprattutto vorremmo che ci fosse maggiore chiarezza e un intervento incisivo da parte della Giunta regionale per far sì che anche i cittadini siano doverosamente informati. È una questione che preoccupa il territorio anche per l'impatto che potrebbe dare questa nave gasiera all'interno del porto di Piombino con tutte le sue complicazioni. Abbiamo chiesto anche quali potrebbero essere eventualmente le compensazioni che verrebbero date al territorio e alla città ma soprattutto dobbiamo capire se questo intervento è eco-sostenibile rispetto a quelle che sono le dinamiche portuali e della città. Il Presidente Gianni è intervenuto in aula, ci ha detto che lui al momento non è a conoscenza del fatto dello stato dell'opera e noi di questo siamo fortemente preoccupati e chiediamo maggiore incisività. No ad una quarta base toscana dell'elisoccorso. È la risposta che arriva dalla Giunta regionale nei confronti dell'interrogazione che era stata presentata dai consiglieri regionali Gabriele Veneri e Marco Casucci che avevano chiesto di ampliare la flotta dei Pegaso collocando una nuova base nell'area sud-est, nello specifico nella provincia di Arezzo. Chiedevamo la possibilità di ampliare il servizio di elisoccorso nella regione toscana e avevamo proposto un'eventuale nuova posizione nell'area sud-est che è l'area più grande, più estesa della nostra regione e poi avevamo chiesto anche di poter dotare tutti gli elicotteri attualmente in uso con i sistemi notturni perché attualmente solamente quello di Grosseto è dotato del sistema di volo notturno. Diciamo che noi, ad esempio, come provincia di Arezzo abbiamo delle distanze enorme che vanno colmate perché purtroppo i medici nei territori non ci sono più perché la sanità versa in condizioni gravissime le infrastrutture sono totalmente avverse rispetto all'area così estesa noi portiamo sempre l'esempio di Sestino che è un paese che per raggiungerlo ci vuole un'ora e cinquanta non ha il medico attualmente e quindi crediamo che non si può permettere ai cittadini di essere lasciati soli anche perché non ci sono cittadini e zone di serie A e di serie B quindi se il soccorso non può arrivare attraverso le strade chiedevamo che questo soccorso arrivasse dal cielo e avevamo anche suggerito di fare eventuali accordi con regioni vicine per eventualmente dividere i costi di questo importante servizio. Una esigenza quella della quarta base per la Toscana che nasceva direttamente dal territorio noi siamo stati nel territorio di Arezzo e abbiamo raccolto questa esigenza che viene forte in considerazione della carenza personale, di risorse lo stato delle infrastrutture che è inaccettabile la necessità di potenziare la sanità di territorio che cosa è stato risposto a questa esigenza che veniva dal territorio? un disinteresse sostanziale che noi non possiamo ammettere noi condanniamo una risposta del genere perché non fa gli interessi di tutta l'area toscana sud-est ma anche e soprattutto della provincia di Arezzo la provincia di Arezzo non può continuare a essere dimenticata dalla regione toscana queste risposte dimostrano invece proprio un disinteresse verso la nostra provincia e noi lo gridiamo forte così non va nei giorni passati alcune scosse di terremoto hanno interessato il territorio toscano in particolare il sisma che ha avuto un'intensità da 3.7 di magnitudo ha fatto registrare l'epicentro tra Impruneta e San Casciano in Val di Pesa le scosse fortunatamente hanno comportato pochi danni ma una di queste è stata avvertita distintamente anche a Firenze e ha comportato l'interruzione dei lavori d'aula questo il commento del presidente Mazzeo all'indomani dell'accaduto sono stati minuti davvero concitati non appena abbiamo sentito questa scossa di terremoto molto forte anche qui in palazzo ho subito dato mandato agli uffici di chiedere di rendere libero tutto il palazzo a partire dall'assemblea legislativa ma anche ai dipendenti mi sono messo subito in contatto insieme al segretario generale con il responsabile per la sicurezza e una volta saputo il grado dell'intensità 3,7 gradi della scala Richter e tenuto conto del protocollo e delle procedure in essere per la sicurezza abbiamo deciso di non far rientrare più nessuno a palazzo e quindi di sospendere i lavori del consiglio ho subito sentito i sindaci e da loro ho avuto parole rassicuranti sia il sindaco dell'Impruneta sia il sindaco di San Casciano non ci sono grossi danni alle cose quindi il lavoro che si sta facendo ora è di verifica in alcuni degli immobili degli edifici in cui c'erano stati segnalati dei problemi la nostra protezione civile si è subito messa al lavoro quindi a loro un grazie come un grazie ai volontari un grazie ai sindaci e un grazie alla popolazione perché non era scontato reagire così bene la struttura militare di Coltano non si deve fare il consiglio regionale si è espresso così sull'argomento chiedendo un ripensamento e l'individuazione di soluzioni alternative da negoziare con il governo e le autorità militari l'Italia via per prima si è pronunciata contro la realizzazione di questo intervento nel merito alla localizzazione e all'utilizzo dei fondi del PNRR non è sbagliato di per sé migliorare il posizionamento dei carabinieri fare un intervento importante ma bisogna decidere dove farlo come farlo passare da 53.000 m2 a 730.000 m2 in un parco come quello di San Rossore è una speculazione edilizia pubblica in un ambiente che deve essere tutelato, promosso e qualificato si può condividere dove fare questo intervento meglio se farlo dove ci sono degli opifici dismessi che possono essere recuperati o dove ci sono dei locali abbandonati ma sicuramente non in un parco regionale che è famoso nel mondo per il proprio pregio di carattere ambientale quindi siamo contrari bene l'approvazione del nostro atto per dare forza al Presidente Gianni per contrastare questo intervento Noi intanto abbiamo detto fin dall'inizio che il Comune di Pisa deve essere coinvolto e deve essere centrale nella discussione tant'è che apprezziamo il fatto che il Sindaco di Pisa accompagnato anche dall'assessore all'urbanistica e dal Presidente della Prima Commissione siano al tavolo dove si discute di questo intervento insieme alla Regione e insieme all'Arma dei Carabinieri quindi è un passaggio che riteniamo essere obbligato ancorché opportuno dopodiché pensiamo che proprio coinvolgendo il Comune di Pisa il Sindaco sarà in grado di individuare una proposta che possa tener conto di due interessi principali uno quello di salvaguardare l'ambiente e un intervento che possa essere in qualche modo troppo invasivo in un'area importante come l'area di Coltano dall'altra parte però salvaguardare il fatto che il Comune di Pisa possa ospitare un centro di eccellenza dove saranno appunto convogliati tre reparti di eccellenza fondamentali che sono un orgoglio nazionale quale il Tuscania, quale il GIS e quale il reparto dei Carabinieri Cenofili a Cavallo quindi siamo felicissimi che questi tre importanti reparti possono essere stanziati a Pisa che daranno ulteriore appunto motivo di orgoglio alla nostra città con un intervento che deve sicuramente essere in qualche modo rivisto in qualche modo riallocato o contenuto rispetto al progetto iniziale Così come è stato presentato questo progetto è apparso immediatamente irragionevole per i volumi e per come è dislocato qualcuno parla infatti in aula di un'area marginale del parco ma si tratta in realtà di un'area vocata a agricoltura biologica e soprattutto un importante cuscinetto tra il tessuto sociale ed economico del territorio e il parco il parco regionale il fatto che questa proposta sia stata calata in maniera così improvvisa dall'alto non è piaciuto sicuramente agli abitanti neanche alle istituzioni e la regione toscana ha fatto bene a cercare una soluzione alternativa anche perché si andrebbe a parlare di 73 ettari di terreno vergine ad alto valore ambientale a fronte di quello che dovrebbe essere il gancio evocato quindi la bonifica di 5 ettari anche meno di un'ex stazione radar quindi l'irragionevolezza anche a fronte dei molti immobili dei molti edifici abbandonati nei dintorni è evidente tanto più che appunto la presenza militare a Pisa è sempre stata forte e ha bisogno di una razionalizzazione anche per quanto riguarda gli spazi che ospitano perché possano davvero sì essere quello che l'Europa anche chiede delle caserme più verdi quindi con un risparmio energetico e con una sostenibilità ambientale maggiore questo deve essere fatto e deve essere fatto di concerto col Ministero della Difesa ma appunto di concertazione si parla e non di imposizione noi apprezziamo la presenza e l'impegno e il lavoro dei carabinieri in Toscana e nella realtà pisana riteniamo però in sintonia con tantissimi di quelli che si sono espressi che questo intervento per l'impatto che produce sul territorio non debba essere realizzato all'interno di un'area protetta e quindi chiediamo tutto l'impegno possibile al nostro Presidente e alle altre istituzioni affinché si adoperino in un confronto con le istituzioni governative per cercare di evitare che vengano occupati questi 73 ettari all'interno del Parco di San Rossore per questa realizzazione io credo che questo potrà riuscire anche perché abbiamo molto apprezzato la disponibilità dell'arma dei Carabinieri che ha detto di non voler comunque realizzare questo tipo di intervento contro le comunità locali e quindi con le emozioni che sono state approvate crediamo di rafforzare la posizione e l'impegno della Regione Toscana per andare in questa direzione è tutto questa era la nostra ultima intervista cronache e commenti torna la prossima settimana grazie a tutti Grazie a tutti.